Musica Salve a tutti, oggi vi mostrerò come realizzo questo effetto sfumato con l'acrilico Per prima cosa parto con una perla d'acrilico sfumandola dall'alto verso il basso Successivamente prendo una perla d'acrilico del mio secondo colore La applico dal lato opposto della prima perla d'acrilico Dopodiché inizio appunto a sfumarla verso la parte alta della mia unghia Continuo ad aggiungere il colore e a sfumarlo finché non raggiungo la sfumatura desiderata Musica Ed ecco il risultato Spero il tutorial vi sia piaciuto e vi sia stato utile Un bacio e al prossimo video Ciao! Ciao!